Questa è quella che Sandro Piccinini definirebbe una vera e propria botta da fuori Doppio passo, piazzato e dedica a Giulia, tutto molto bello Se ci fosse un'associazione per la salvaguardia degli incroci dei pali, in questo caso bisognerebbe chiamarli di corsa Gol da centrocampo, merito dell'attaccante o demerito del portiere? Anche in questa giornata ne abbiamo ben due Questa è letteralmente una vera e propria punizione per il portiere avversario, bordata da 30 metri Grazie per la visione!